Il portellone posteriore purtroppo non è elettroattuato, lo vediamo, è un portellone che si apre e si chiude manualmente, forse sotto questo punto di vista si poteva fare qualcosa di più, il bagagliaio è da 421 litri, si può estendere fino a 1425, nel caso c'è il mio solito trolley da cabina, nella zona inferiore c'è qualche litro per stivare gli oggetti che usiamo meno, ad esempio come potrebbero essere le catene o a qualche altro dettaglio, si può arrivare a 1425.